Musica Ciao ragazzi qui è Sawyer e bentornati nel canale Siamo tornati su Asworld Quest'oggi ragazzi pvp con il nostro LK Ragazzi volevo dirvi una cosa Sto portando di nuovo la gilda avanti Quindi per chi volesse entrare nella gilda La gilda si chiama Jedi Academy Lo vedete qua ragazzi sotto di me Quindi ragazzi ho messo l'annuncio in bacheca Siete tutti benvenuti Anzi mi farebbe piacere ragazzi portarla avanti Anche perché la gilda è a livello 10 Ed è un gran peccato scioglierla ragazzi Quindi vi aspetto in tanti ragazzi mi raccomando Detto questo ragazzi in pvp è diventato molto più difficile Giocare con l'LK ragazzi Ho delle difficoltà incredibili A parte che ha da tantissimo tempo che non ci gioco Infatti ho riacquisito il mio rank di grado B Ragazzi mai stato di rank B E' una cosa assurda E' una cosa assurda Cioè io sono stato sempre rank S o da Con l'LK però Da quando i server sono stati aperti Qualcosa è cambiata ragazzi E' tosta E' tosta Ovviamente ragazzi lasciatevi qui un vostro parere Che è fondamentale Io vi ricordo sempre di lasciare un bel like Se volete supportare il canale e i video di PvP Detto questo ragazzi direi di avviare le battaglie Quindi ragazzi grazie mille Tanto volevo salutare Simone Che se la balla qui Guardate che figo Simone Ciao Simo Anche lui il mio gildano Detto questo ragazzi Avviamo le battaglie Ok ragazzi iniziamo le battaglie Da malissimo eh Attenzione Facciamo questa Oh my god vai Perché non li riesco ad agganciare ragazzi E' stranissima come cosa Guarda che roba E qui c'ha presa in combo E guarda se avessi avuto il mio Noblesse non te la saresti cavata così facilmente Eh vabbè E' rotto le scatole Guarda Vai così Cioè ragazzi E' strano perché Lo aggancio Ed escono dalle combo Perché Non lo capisco Laga Adesso l'abbiamo preso per forza E basta ora eh Vai con calcio Ah ecco cosa ho dimenticato Ho dimenticato la capriola Mannaglia Vai così Azul Guarda che siamo in ambi Perfetto Ora Vai così Vai Azul Vai col calcio Bene Ok ragazzi E' quasi morto E' quasi morto Facciamo l'arma similante Se riusciamo Andiamo Dovrei farcela eh Vabbè non serve a sto punto Facciamo questa Bella Sta skill Mi piace tantissimo Secondo me questo qua Ragazzi muore avvelenato Mannaglia Guarda come sta recuperando Oddio Attenzione Non ci credo mai Comunque ragazzi abbiamo quasi la lama Ah cresci Ok Doveva essere morto ora No non muore ragazzi Terremoto E quanto cavolo Ti ci vuole a morire eh Ok ragazzi Oh mamma mia Oh mamma mia Vuoi morire Maledizione Facciamo questa Facciamo questa Ragazzi non muore Ragazzi non muore Attenzione Non muore Mamma mia ragazzi Abbiamo perso Mi sa Ok Brecchiamo un attimo Mi manca uno sputo Oh e vuoi morire Che palla ragazzi Ma la sono vista Bruttissima Avete visto ragazzi C'è Il gioco è cambiato Assurdo Allora ragazzi Prossimo scontro Contro una rena Bene Unita Vediamo se questa È straniera O è italiana Ragazzi Dove sei Eccola lì Arriviamo No non è italiana Eh va bene Iniziamo con le frecce Bene Benissimo Mi mancavano le frecce Ragazzi Vai così Non l'ho presa Adesso si Io direi ragazzi Di farla cadere Con un bel calcio No Ecco No non è caduta Che fecchiato Intanto facciamo questa Lei non mi prende Noi la agganciamo Di nuovo alla grande Mi sono dimenticato Di mettere di nuovo Il La capriola Maledizione Bene così Ragazzi Ok Dove ancora Riabituarmi A fare le x drop Mamma mia Sono rimasto Troppo indietro Vai così Vai così Che la agganciamo Dai Che ancora ne hai Da mangiare Pollo E patatine Vai così Azord Vai Voglio farla cadere E cadi Cavolo Cadi 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 Sì Ok ragazzi Prossima battaglia Contro Un bm Stavolta ho messo La capriola Attenzione Queste qua ragazzi Questi scontri Mi piacciono tanto Perché siamo Siamo tutti e due Personaggi fisici Quindi Si gioca A meraviglia Ragazzi C'è una capriola Bene così Adesso si Che qualcosa È cambiato Ragazzi No Dove usare terremoto Non l'ho pigiato Vabbè Come al solito Attenzione Abbiamo preso La velocità Raga E l'abbiamo anche Preso Alla grande Buono Abbiamo anche La barra Del vigore Noi facciamo La capriola E vediamo Se riusciamo Ad agganciarlo Però Non dovrei avere Problemi Ecco Terremoto Perfetto E va bene Ok ragazzi Sta Lei Lui mi ha Congelato Occhio Comunque Del BM Mi piacciono tantissimo I movimenti Cioè È velocissimo È velocissimo Veramente Oh cavolo Avete visto ragazzi Si sta riprendendo La grande Dobbiamo Contrattaccare Subito Oh madonna Che massacro Grande Il BM Bellissime Combo Allora ragazzi Qua non brecchiamo Che dite Non posso fare Nemmeno nulla Allora Questa qua Mi ha ripresa Alla grande Lama dell'Apocalisse Eeeh Raga Tosta Tosta Questa Tosta Tosta Ho usato Lama dell'Apocalisse Malissimo Niente ragazzi Persa GG Ok ragazzi Prossima battaglia Contro Unain Fight Iniziamo Oh questo qua Italiano Bella Vieni noto Italiano Comunque ragazzi Come giocano gli italiani È diverso Eh Allora Facciamo così E lo abbiamo preso Ragazzi Facciamo la capriola E andiamo dall'altro lato Bene Facciamo l'Ama sibilante E lui è caduto a terra Va bene così ragazzi Oh Occhio Bene 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 Capriola Vai col calcio Bene Ragazzi Facciamo l'Ama sibilante Attenzione Prima facciamo questa L'Ama sibilante E l'abbiamo di nuovo preso Mulino a vento Però Peccato Non ce l'ho fatta Volevo prenderlo con mulino a vento Va bene così ragazzi Ci sta Bene Calcio Bene ragazzi GG Per noi Prossimo scontro ragazzi Contro un RS Vai così L'Azord Magico Ragazzi C'è anche questa E forse l'abbiamo preso Si Bello come inizio No Veramente Volevo provare a fare l'Xdrop Però Non me l'ha fatto saltare In aria Non so perché Ma Non mi vengono sempre gli agganci In combo Tanto l'abbiamo avvelenato Begli staff Facciamo questa E Se ci andava di fortuna Lo agganciavamo Tanto lui mi ha preso Meravigliosamente Vaffangulo Ok L'abbiamo sfuggita bella ragazzi Facciamo questa Non ci credo mai Oh abbiamo fatto tutte e due La stessa Mossa Attenzione Noi lo prendiamo No mamma mia Siamo troppo lenti Per fortuna Azord pare colpi Bene ragazzi C'è uno terremoto E Cavolo Sto ghiaccio Anch'io dovevo il ghiaccio Mi sono messo veleno Ma perché Dovevo lasciarmi il ghiaccio Raga Mi sono fatto Prendere Dalla lama verde Oh mamma mia Oh mamma mia Attenzione Oh mamma mia Sì Preso No Ok Reagisci Azord Vabbè dobbiamo breccare forza Ragazzi Comunque bello scontro Bello scontro questo Assolutamente Che stai andando Di santa ragione Mi ha congelato Per tre Va bene Siamo liberi Eh Qua ti volevo Caro mio Qua ti volevo Caro mio Ecco fatto GG Raga Bella Pr prossima battaglia Di nuovo contro Simo Crick Mi dispiace tantissimo Incontrare gli italiani Però Allora Cianco Sì Vediamo se lo riusciamo a prendere Forse l'ho preso Raga Forse l'ho preso No Bella 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 Lui si è parato Anche bene Cianco La capriola E facciamo anche questo Però niente Non ha funzionato Raga Bella Io ragazzi Dovo portare Vivi anche con line Però devo alzare un po' Il personaggio Perché mi pare che È a livello Sessanta Forse Il cuore è basso Tanto lui prende il gesto Ma non è che gli servirà A un granchier E adesso ragazzi Secondo me lui Si vorrà prendere La rivincita Allora Lui è andato sopra Aspettiamo Che scenda Se si decide Oh Preso Mi sa che qui È commesso un errore Caro mio Mi sa che qui È commesso un errore Terremoto Ok Bene 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 Facciamo questo Ah Peccato Accresci Capriola Bene Così E mi sa che qui Si è fregato Anche Un'altra Volta Ragazzi Bene No no È già finita Non ho visto La barra della salute Comunque GG Stiamo salendo Ragazzi Stiamo salendo Ed eccoci qua In gilda Ragazzi Per oggi Direi di concludere Qui L'episodio Del pvp È stata dura Ragazzi Oggi È stata veramente dura Vi ricordo sempre Che l'annuncio Della gilda È disponibile In bacchia Ragazzi Quindi vi aspetto In tanti Magari Vi aspetto Ragazzi Siete tutti Benvenuti E facciamo arrivare La gilda A livello 15 Da che ce la possiamo Fare ragazzi Mi raccomando Datemi anche il vostro supporto Lasciando un bel like Un bel commento E noi ci rivediamo Alle prossime battaglie Ciao ragazzi